Musica Ragazzi benvenuti in questo nuovo video su Modern Warfare Ora sono in una lobby di DCT e sto per fare una cosa di cui mi pentilo tantissimo Ovvero giocare con un fucile tattico La carabina MK2 L'obiettivo di oggi è vincere, lo dico sotto voce perché non ci credo manco io In realtà volete sapere qual è la verità? Che io ho già registrato questo video Peccato che non abbia registrato la mia voce e me ne sia accorto soltanto alla fine della partita Dopo aver vinto ed essermi girata a guardare i dispositivi che registrano la mia voce con le luci spente Infatti nella clip potete vedere la mia espressione che passa da Ok E si spegne Comunque cazzate a parte Ho vinto una volta Posso vincere anche due volte Non ho problemi Quest'arma raga mi fa impazzire questa carabina Io non uso mai il cecchino lo sapete Questo è un fucile tattico quindi una sorta di via di mezzo tra un cecchino e un pompa In realtà è semplicemente un cecchino un po' più leggero Fa più hit marker ma è più rapido Onestamente lo preferisco agli sniper classici che trovo invece un po' troppo lenti Soprattutto su questo gioco dove Diciamo che con un time to kill così basso ogni arma ti dà un colpo quindi Questo qua Non ci voglio credere Zia sto per arrivare a mangiarti con la mia carabina Oh cazzo ma è lui Oh iotta ma bro ma sei morto? Dicevo con uno sniper classico dai un colpo ok È molto più affidabile a livello di danno Ma qualsiasi arma in questo gioco ti sfonda quindi Non so quanto possa essere un vantaggio Avere un'arma così lenta per poi avere un vantaggio minimo Solo da lontano chiaramente rendono meglio La parita è un po' strana mi sembra già abbastanza weird perché Silenzio totale Non si sente un rumore Mi pare di essere a caccia sul serio Col mio fucile da caccia a caccia di cervi Silenzio totale Ma potrei mettermi a meditare a fare yoga Senti dai ragazzi mi avete rotto il cazzo Ve lo dico francamente ragazzi Se volessi giocare a nascondino farei nascondino Ma questo è un fottuto video in cui vuoi giocare con un'arma è killare Forse questa è anche troppo dinamica considerando Che c'è un'arma un po' strana Vabbè ci proviamo Tentare non nuoce O forse si bisogna vedere C'è uno che si chiama Shinzo nella mia partita Raga come il mio cane Ma Ok Wow l'ho canato malissimo Vigilo per se deve lì C'è un altro Esci fuori Vedete sta granata No Bene Ok Siamo primi Se non a me ci divertiremo sta parita sapete Dai Questo suca Questo campera Oh è fermo non lo so Oh Siamo primi raga 5 kill e 2 morti Ma non me ne fregono cazze le morti Basta vincere Carichiamo Il secondo è a 4 C'è uno che fa 4-0 Non mi piace Se pira le striche Sono finiti i giochi Ma perché non c'è più nessuno qui Oh Preso Cosa cazzo ha preso Il controattacco Wavy Cos'è sta roba Ma che cazzo sta succedendo Non ho capito Mi hanno cambeccato ragazzi Però c'è Sono forse da trovare 80% Non trovarne più Merda che casino però Vi giuro che trovarseli così davanti all'improvviso E potre sparare solo un colpo Non è facile Lo assicuro Cioè è proprio capito E devi mandarlo a segno per forza Ok Prima è a 13 Eh mi sa che questa parita va male Hitmarker 15 kill Eh sì vabbè raga Ma non posso starci al passo Cioè Troppo più rapido Di me dai Ma che devo fare Ma poi giocano negli angoli Porco 2 Non esca questa parita Cosa cazzo Muori Vabbè ragazzi È finita già È finita Quella è a 18 Ma muori Ehi 19 Noi siamo a 14 Raga La fine Di stacco è minimo Noi a 20 Noi siamo a 15 Di stacco è piccolo Però Come cazzo gli stai dietro a uno che killa così velocemente Con quest'arma Avessi tipo una mitretta Mica me lo mangerei Però ahimè Non ce l'ho Ecco qua Puttana Ok No Ragazzi siamo sotto solo di due Cristo C'è il social pompa Raga gli spawn più ridicoli che abbia mai visto Sono primo Mi ha come cut a 21 pari Sono primo No però Me l'hanno rubato Finzo di merda Non ti do a mangiare più Ma mi tiri le granate Così è Fanculo Ma guarda lo spawn Mi è sparato lì davanti Era lui Ok Ragazzi Ha recuperato quel tipo Siamo a 24 pari Finzo muori 25-24 Raga 26-26 Minchia Che partita combattuta Sono primo di una kill Merda 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 Mi ha superato di una kill Non sto più trovando nessuno C'è una torretta lì Mi ha killato Era lui il primo E a 29 O sono a 27 Raga Fino È lui Ma che mi sta facendo fare le kill? What the fuck Mi ha kill Mi ha lasciato killare Si è lasciato uccidere 29 pari Ma chi si è spento il pad? Ho vinto Si è fatto uccidere Raga L'avete visto? Ma chi è? Twitch core oghi Twitch Cog ori Aspetta Devo andarmi a vedere se questo sta streamando ora Fatto sta che comunque Non me ne fega un cazzo Peggio per lui Cog ori Eccolo È in live ora È in live ora In questo momento è in live C'ha due spettatori Inglese Tedesco Non ha la cam Lo vedete? Questa è la mia kill cam Ha detto Fucking tryharders Ha detto Quindi non si è lasciato uccidere Non so cosa stesse facendo Fatto sta che boh Sta rosicando Quindi probabilmente Oggi si è spento il pad Non lo so Non lo so Non ho idea raga Ho vinto Non me ne fotte un cazzo Mi piglio la vittoria Bella Raga Spero vi sia piaciuto questo video Non so manco io come ho fatto a vincere Ve lo giuro Non lo so manco io Vite a lasciare un bel like Noi ci becchiamo in live Questa zero Per provare il nuovo aggiornamento Vi mando un abbraccio Qui da Velox è tutto Bella raga